È il 73esimo anniversario della Fondazione della Repubblica, 2 giugno del 1946, quindi un appuntamento che segna l'inizio della ritrovata democrazia dopo il ventennio che aveva determinato l'annientamento della nostra fase democratica. E quindi è una delle occasioni nelle quali ricordiamo soprattutto questi valori. Ed è questa anche la ragione per cui abbiamo deciso di dare particolare enfasi quest'anno alla celebrazione del 2 giugno, anzitutto con questo elemento di novità che è in qualche modo molto caro alla comunità e alla cittadinanza ferrarese, sappiamo perfettamente molto vicina al palio. L'altro elemento di novità che abbiamo pensato di introdurre, anche con la disponibilità ovviamente del Ministero dell'Amministrazione dell'Interno. Quindi avremo presente qui a Ferraca una composizione della fanfaga, 16 elementi a cavallo che accompagneranno e scandiranno anche la parte musicale, oltre che scenografica direi della manifestazione, l'imbandieramento della Torre della Vittoria, dei Vigili del Fuoco. E poi abbiamo voluto anche saltare i valori sportivi perché sono convinto di questo, come dire, la crescita anche dello sport si accompagna alla crescita dei valori democratici. Quindi oltre ai consueti stand in Piazza Trento e Trieste, anche abbiamo allestito, allestiremo in Piazza Municipale, alcuni stand di rappresentanti dei centri sportivi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabini e della Marina Militare. Facciamo un appello ai cittadini per partecipare? Decisamente, è una delle occasioni e delle opportunità per vedere intanto cose molto interessanti, molto belle e soprattutto per sentirsi direttamente presi e colpiti dai valori della democrazia e della Repubblica.